Filippo Incarboni era originario di Lecce, era arrivato a Vigevano una ventina d'anni fa, abitava in Corso Genova con il suo cane, un bassotto di nome Casper, a cui era molto affezionato. La sua scomparsa viene fatta risalire al 27 dicembre scorso, quando l'uomo ha incontrato uno dei due fratelli che abita a Gambolò. Il 3 gennaio poi avrebbe mandato un messaggio di auguri alla cognata. Da lì in avanti il buio, solo alcuni giorni più tardi i suoi vicini di casa, con cui aveva contatti abbastanza frequenti ed amichevoli, sentendo abbaiare ininterrottamente il cane, si sono insospettiti ed hanno dato l'allarme. Quando i soccorritori hanno fatto irruzione nell'appartamento hanno trovato la bestiola e l'hanno tratta in salvo, ma del suo padrone non c'era traccia ed allora il suo telefono è sempre stato staccato. Chi lo conosceva assicura che era molto affezionato all'animale e mai lo avrebbe lasciato in casa da solo, così a lungo. Filippo aveva un altro fratello rimasto a vivere al sud. È arrivato anche lui in Lomellina qualche settimana fa per aiutare nelle ricerche, ma non l'ha più rivisto. A nulla sono valsi gli appelli via social, in tv, nella trasmissione chi l'ha visto. Tuttavia non sono mancate alcune segnalazioni. Dopo la scomparsa ufficiale, qualcuno l'avrebbe visto con dei cani in una zona dove portava spesso il suo a passeggio. Qualcun altro lo avrebbe incontrato, scambiandoci anche qualche parola. Tutto da verificare. Su una cosa però al momento concordano tutti. Negli ultimi mesi Filippo stava attraversando un periodo buio, aveva perso il lavoro, era dimagrito, un po' trasandato e con la barba lunga e, una volta, qualcuno l'avrebbe visto col volto tumefatto, ma lui l'avrebbe rassicurato dicendo che si era trattato soltanto di un piccolo incidente domestico.